Buongiorno a tutti, siamo Alessandro e Sonia, siamo di Roma, quindi veniamo da Roma, siamo arrivati qui verso la fine di posto e abbiamo un bambino di 9 anni che abbiamo iscritto qui a scuola. Siamo molto contenti qui della scuola, qui alle Canarie, perché il nostro figlio si sta integrando molto bene, tra l'altro è capitato in una classe dove sono soltanto spagnoli e quindi vedo che non ha nessun tipo di problema, anche i professori lo stanno aiutando molto. Siamo stati supportati in tutto questo da Vivere alle Canarie che ci ha seguito per l'iscrizione a scuola e documenti e quindi noi non possiamo fare altro che ringraziarli di tutto l'aiuto che ci hanno dato e vi salutiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.